Il prodotto interno lordo della Puglia è cresciuto nel 2018 dell'1,4%, a certificarlo è l'Istat che ha diffuso i dati nel report dedicato ai conti economici territoriali per gli anni 2016-2018. La Puglia si posiziona al di sopra del dato italiano, più 0,8% del nord-ovest, del centro e soprattutto del mezzogiorno. La crescita della Puglia è pari a quella del nord-est, più 1,4%. È una gratificazione enorme per tanti anni di lavoro e di contrasto alla crisi, ha detto il presidente Emiliano, con strumenti di agevolazione che hanno cercato di adeguare l'offerta al grande cambiamento in atto, rendendola adatta alla domanda del mercato, ma anche alle esigenze delle imprese, all'innovazione necessaria per affrontare le sfide di nuovi mercati.